Siamo con l'assessore ai servizi educativi del Comune di Taranto Fabiano Marti. Questa mattina è iniziato questo tour presso gli asili nido comunali. Si proseguirà poi nei prossimi giorni anche con le scuole primarie. Oggi siamo partiti per dare un saluto alle coordinatrici, per dare un saluto alle mamme, ai papà, ai genitori, ai nonni che partono prima di tutto loro con questo nuovo anno educativo e i loro bambini. Ovviamente ci sono anche degli educatori nuovi, sono 13 nuovi educatori, un uomo e 12 donne che hanno cominciato praticamente da oggi. Hanno firmato il contratto ieri e quindi si comincia, si parte, siamo andati a dare un bocca al lupo. E' stato bellissimo vedere tanta emozione e come sempre ci siamo messi a disposizione. Abbiamo voluto ribadire che la nostra direzione è a disposizione, che io sono nel mio ruolo a disposizione di tutti. Un anno in cui riprendiamo in gestione tre asili, quindi diventano nove di asili comunali. Tre erano stati dati in gestione, invece tornano adesso nella gestione comunale. Questo ci permette anche di partire con progetti nuovi, dei quali vi parleremo a brevissimo, però ci sono delle novità anche proprio sui servizi educativi che daremo ai nostri bambini per cercare di arricchire l'offerta formativa. La situazione strutturale delle scuole, ci sono delle scuole dove sappiamo che sono in corso dei lavori? Se ci può fare un po' un quadro riassuntivo? Ci sono delle scuole che sono interessate ai lavori, da interventi importanti da parte dell'amministrazione comunale. Soprattutto mi viene in mente il Madonna di Fatima, la cui parte esterna è stata completamente ristrutturata, anche se a brevissimo si competeranno i lavori, così come la scuola Pirandello, che purtroppo aveva subito quel crollo, quindi si è dovuto intervenire per mettere tutto in sicurezza. Ci sarebbe ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, però piano piano cercheremo di mettere a posto tutto. Lo dicevo anche ai genitori, insomma cercate di avere pazienza, perché la nostra intenzione è anche avere delle piccole attenzioni, anche per attenzioni estetiche. Vogliamo intervenire su tutto, vogliamo fare in modo che diventino sempre più accoglienti le nostre scuole e i nostri asili. Per questo dovete avere un po' di pazienza, ma con la direzione lavori pubblici, con il collega stiamo lavorando e compatibilmente con le disponibilità economiche cercheremo di mettere a posto tutto.